Buongiorno fratelli cari, il Signore vi benedica e vi abbraccia forte oggi. Ciao Giuseppe. Buongiorno, buongiorno Gloria e via, buongiorno Angela. Ciao, continuiamo la storia di ieri, siamo le rose di Dio. Com'è bello sentire questo. Però poi, se ci ricordiamo la storia, le rose non è solo che hanno un profumo meraviglioso e sono bellissime, ma c'è anche la parte di crescita, dove il vignaiolo, che abbiamo letto Giovanni XV, il padre deve potare, deve curare la rosa e nella storia abbiamo visto che gli insetti mangiavano le radici e il giardiniere ha dovuto tagliare le radici, cioè curare bene alcune radici. Questi siamo noi, il Signore deve potare e tagliare le cose sbagliate della nostra vita. Gloria Signore, Amen, Amen, Amen. E allora daremo un profumo meraviglioso per Gesù. Amen, Amen, Amen. La rosa è una cosa meravigliosa, che ci sono le spine che mostrano i sacrifici che dobbiamo fare. Le spine puncano come la corona di Gesù, che è fatta di spine. Poi c'è la rugiada, bellissima, la rosa con la rugiada. E le gocci di rugiada, in un certo senso, rappresentano le lacrime, le nostre lacrime che a volte dobbiamo spandere, come Gesù neggezzemani. e Rosa è un bellissimo paragone. Posso raccontarti una piccola storia? Sì. La storia di una coppia che aveva divorziato. E questa coppia, storia vera, avevano un figlio adolescente per il quale lottavano legalmente per poterlo avere. Il figlio preferiva stare con la madre. Si dava il caso che la madre lo viziava, gli dava tutto quello che il figlio desiderava. E allora giunse il giorno che il ragazzo, arrivò in età, che poteva comprarsi una moto. E voleva una moto. Il padre era assolutamente contrario. No, niente moto agli adolescenti. È pericolosissimo. La madre lo amava così tanto che non sapeva come dirgli di no. Gli compra la moto. E allora il padre non poteva fare niente, che legalmente il figlio era sotto l'ombrello della madre. Erano separati? Erano separati, sì. Divorziati. Giunse il giorno che vi fu un terribile incidente. Il giovane morì sul colpo. Ah, terribile. Il figlio era troppo viziato e riceveva tutto quello che voleva, anche quello che non era buono per lui. Infatti, nella nostra chiesa, io non ho grandi poteri di dire alla gente cosa deve fare, neanche li voglio. Però ho proibito, per quanto posso con i miei suggerimenti, ho proibito a tutti di comprare moto, chi ce la deve vendere. E tanti hanno ubbidito nella nostra chiesa dopo che hanno fatto un incidente con la moto. Hanno ubbidito dopo. Si erano ricordati delle mie parole e ho detto che la moto è proibita nella nostra chiesa. Io ho un fratello che, io mi ricordo, volevo comprarmi la moto quando ero adolescente, perché vedevo i miei amici con queste fidanzate di dietro la moto e andavano. E dicevo, anche io voglio mettere una ragazza dietro la moto e far vedere che sono io. E mio padre ha detto, no, niente. Ti compro la bicicletta migliore del mondo e non la moto. E io insistevo, e lui insistì a più di me, che io sono testa dura, ma il mio padre è testa ancora più dura, Dio lo benedico, adesso in cielo. Mio fratello, cinque anni più giovane, arriva l'adolescenza. Io non ero più a casa, ero, trovo l'Inghilterra a quel tempo. E voleva la moto. E allora mio padre dice, no, niente moto. E lui, zitto zitto, arriva il giorno, si trova al lavoro, guadagna lo stipendio, e si compra la moto. E mio padre non poteva fare niente. Sai, oggi legalmente i figli fanno quello che vogliono, eh. Ma noi come nella Bibbia, che il padre dice, noi no. Noi figli non rispettano più i genitori. E allora, io ringrazio Dio che l'ho rispettato. Glorie a Dio. Allora, viene il giorno che mio fratello ebbe un grande incidente. Andò a sfasciarsi contro una macchina, volò fuori dalla moto, andò a sbattere la testa contro un palo della luce. Il casco, per fortuna, aveva il casco, e si spaccò. Crac, se non aveva il casco, ciao. La gamba gli si ruppe in cinque pezzi. Ancora oggi lì non può giocare a pallone, non può correre. Gioca una volta a pallone, dopo un trent'anni, se spaccò la gamba di nuovo, ti ho detto un calcio a pallone, e dopo non smettia più di dire che stupido, che stupido, che stupido. Sapevo che non potevo giocare a pallone. E questa è una storia che mi tocca da vicino. Poi venne il giorno che ci ho mirato il privilegio di poter pregare con lui, con il mio fratello, e con tutta la mia famiglia che ricevettero Gesù, che fino a loro non credevano. Quindi, gloria a Dio anche per quello. Insomma, voglio dire, attenzione a dire sempre di sì ai figli. Quando il Signore ti mostra che no, no vuol dire no. Poi se il figlio vuol fare quello che gli pare, faccia quello che gli pare, però da parte nostra, i genitori, no vuol dire no, per quanto il potere che abbiamo noi, che oggi praticamente, il potere dei genitori, è distrutto dal diavolo, perché non vuole autorità al diavolo. Lui vuole essere l'autorità. Allora, guarda, questa è la storia del bambino viziato che mostra un po' come i vermi mangiavano la radice della rosa, la radice di questo ragazzo, con i genitori divorziati, i vermi gli mangiavano la radice. La radice era il suo orgoglio, il suo prendere, approfittarsi, che i genitori litigavano sempre. e quindi sai cos'è? E come Dora, non so se l'altro lo può dire, i suoi genitori erano divorziati e Dora molte volte ha condiviso la lezione che lei se ne approfittava e stava sempre dalla parte dove gli conveniva. In pratica, come missionaria, ebbe dei problemi dopo, anche come missionaria, perché ha dovuto far fuoriuscire questo spirito di approfittarsi della situazione. Dio le benedico, ha lottato e quindi è ancora missionaria, gloria a Dio. Attenzione. Perché il padre, essendo divorziato, si sente colpevole e vizia il bambino. Sì, la madre lo stesso. Gloria a Dio. E allora, il figlio del giardiniere morto dovette sradicare la rosa ammalata, strapparla dal terreno, tagliare le radici compromesse e così la rosa fu salvata. Il simbolo di quello che Gesù ha fatto con noi. Dio ci ha sradicato dal mondo con le nostre radici in mezza marce o tutte marce, ci ha avviati come eravamo alla morte. Gesù è venuto, ha sradicato le radici e ha detto, Giovanni III ha detto, dovete nascere di nuovo. Chi non nasce di nuovo non può vedere niente di Dio. Noi dobbiamo tagliare tutte le radici ed ecco che cresceranno in Cristo. Siamo una nuova creatura. E allora, fratelli, se non l'abbiamo ancora fatto, offriamoci sull'altare a Dio che ci possa togliere le radici completamente. Completamente. Di maniera che, avendo abbandonato ogni cosa, come dice Luca 14, 33, abbandonato ogni cosa, allora sapremo di sicuro, con sicurezza, che quello che avremo dall'ora in poi viene da Dio. mi ricordo del 73 e ho incontrato dei fratelli missionari a Londra e allora mi insegnarono la Bibbia, questo che predicano la Bibbia e basta. E mi fissero vedere, guarda qui, tutti noi abbiamo abbandonato tutto, perché era tanto, perché era poco. lo feci anch'io, abbandonato ogni cosa, ogni vestiario extra che avevo, un vestiario, avevo uno stereo, insomma, tutto la mia possessione, no? E da allora il Signore mi ha fatto mai mancare niente. Mi sono messo a livello zero. E allora se Dio non avesse provveduto a me da allora, sono 50 anni, 49 e mezzo, e allora la Bibbia è falsa. Io poi avrei potuto dire, guarda qui, dieci anni che ti servo, adesso non ho soldi per mangiare, mai successo. Non ho soldi per l'affitto, mai successo. Non ho soldi per mantenere i miei sei figli, mai successo. Mai. Tu sei con noi da quanto, Angela? Da vent'anni. Da vent'anni. Quando è che ci sono mancati soldi per queste cose? No, mai, mai. Abbiamo avuto poco, però abbiamo condiviso tutto, senza problemi. Ma quando è che non c'era soldi per viaggiare, per prendere un aereo, quando era necessario? Ah sì, quando era necessario. Abbiamo lottato, ma il Signore ci ha provveduto l'aereo fino in Sud America, tutto. Sì. Perché la sua parola è vera. Amén. Però ci vuole il coraggio di mettere tutto nelle sue mani e dire adesso se non provvedi a me la tua parola è falsa, non capiterà mai. mai. Mai potremmo dare a Dio più di quello che Dio dà a noi. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Angelina, sto facendo tardi, forse ci fermiamo qui? Sì, sì, ok. Fratelli andiamo a lavorare, non è che c'è troppo tempo, sai. Sì, va bene. Continuiamo, lo concludiamo domani? Va bene, grazie. Ok. Un abbraccio, fratelli, ci sentiamo domani mattina. Dio vi benedica, che abbiate un giorno meraviglioso, fratelli. Sì, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.